Partiamo dalla diga di Montedoglio, in questa zona di particolare pregio paesaggistico, dove per sette anni non è stato fatto nulla. Non c'è ancora un progetto esecutivo approvato dalla direzione nazionale diga. Evidentemente la burocrazia non coincide con le esigenze dei territori e le istituzioni non hanno fatto abbastanza solleciti per realizzare l'opera. Tutto fermo dal 2010, dalla notte del 29 dicembre, quando tutta la Valtiberina tremò e connessa la provincia di Arezzo per il cedimento di una parte del muro in cemento armato che delimitava la diga di Montedoglio. Migliaia di metri cubi di acqua che fuori uscirono, nessuna conseguenza per le persone, per fortuna, ma la diga ebbe un danno enorme. A chiedere adesso di riportare l'attenzione sulla questione Montedoglio è il Movimento 5 Stelle, in visita con alcuni rappresentanti lunedì mattina la diga, per un sopralluogo assieme a Fabio Lunardi, direttore dell'ente Acque Umbre Toscane. È giusto che vengano sfruttate delle risorse che vengono stanziate per l'adeguamento idrico del territorio, che sono anche risorse europee, quindi chiediamo che si faccia luce nuovamente su questa vicenda, che si trovino presto delle risorse e che si faccia tutto il possibile per far sì che la diga venga messa in sicurezza e per sfruttarne al meglio le potenzialità. È inaccettabile che si dica, dopo i nuovi venti sismi, ci abbiamo dovuto adeguarci alla normativa. Non è che ogni volta che piove cambiano gli ombrelli, ci vuole una pianificazione, si deve ottenere il massimo. Oggi ci hanno detto che la parte, quella principale della diga, ci dicono che è in sicurezza, però c'è da risolvere questo problema grosso del muro che è crollato nel 2010. Dopo sette anni non è stato fatto nulla e noi siamo qua per sollecitare. Ad oggi esiste un progetto esecutivo per il ripristino, in attesa però dell'autorizzazione della Direzione Nazionale per le Dighe. Ci auguriamo che questa possa essere la volta buona e che non vi siano ulteriori richieste tali da allungare ulteriormente il percorso progettuale necessario per procedere a un ripristino ormai da molti anni, da retoropi anni atteso dalla popolazione e dai soggetti stessi che gestiscono questo ente e quest'opera. Il progetto attualmente ha raggiunto un quadro economico nell'ordine di 8 milioni di euro, il che vuol dire lavori a base d'asta tra i 5 milioni e mezzo e i 6. Le tempistiche dipendono dal momento in cui verrà formalizzata l'approvazione, invece il tempo di realizzazione dei lavori va tra i 4 e i 6 mesi, quindi paradossalmente il tempo minore è quello che servirebbe per ripristinare materialmente l'opera.